L'aria divenne rigida, come più s'appressava il tramonto. La città in fondo si tingeva d'oro, contro un cielo pallidissimo, sul quale già i cipressi del Monte Mario si disegnavano neri. Andrea trasalì, vide un'ombra apparire in cima alla piccola scala che costeggia la casa dei Castel Delfino e discende sulla piazzetta Mignanelli. Non era Elena, ma una signora che voltò per la via Gregoriana camminando ad agio. Se la non venisse, dubitò ritraendosi dalla finestra, e, nel ritirarsi dall'aria fredda, sentì più molle il tepore della stanza, più acuto il profumo del ginepro e delle rose, più misteriosa l'ombra delle tende e delle portiere. Pareva che in quel momento la stanza fosse tutta pronta ad accogliere la donna desiderata. Egli pensò alla sensazione che Elena avrebbe avuto entrando. Certo, ella sarebbe stata vinta da quella dolcezza così piena di memorie. Avrebbe ad un tratto perduta ogni nozione della realtà, del tempo. Avrebbe creduto di trovarsi in uno dei convegni abituali, di non aver mai interrotta quella pratica di volutà, d'essere pur sempre la Elena di una volta, se il teatro dell'amore era immutato. Perché sarebbe mutato l'amore? Certo, ella avrebbe sentita la profonda seduzione delle cose una volta dilette. E allora cominciò nell'aspettante una nuova tortura. Gli spiriti, acuiti dalla consuetudine della contemplazione fantastica e del sogno poetico, danno alle cose un'anima sensibile e mutabile come l'anima umana. E leggono in ogni cosa, nelle forme, nei colori, nei suoni, nei profumi, un simbolo trasparente, l'emblema di un sentimento o di un pensiero. Ed in ogni fenomeno, in ogni combinazione di fenomeni, credono di indovinare uno stato psichico, una significazione morale. Talvolta la visione è così lucida che produce in quegli spiriti un'angoscia. Si sentono essi come soffocare dalla pienezza della vita rivelata e si smicottiscono dei loro stessi fantasmi. Andrea, vide nell'aspetto delle cose intorno, riflessa l'ansietà sua. E come il suo desiderio si sperdeva inutilmente nell'attesa e i suoi nervi si indebolivano, così parve a lui che l'essenza, direi quasi erotica delle cose, anche evaporasse e si dissipasse inutilmente. Tutti quegli oggetti, in mezzo ai quali egli aveva tante volte amato e goduto e sofferto, avevano per lui acquistato qualche cosa della sua sensibilità. Non soltanto erano testimoni dei suoi amori, dei suoi piaceri, delle sue tristezze, ma erano partecipi. Nella sua memoria ciascuna forma, ciascun colore armonizzava con una immagine muliebre. Era una nota in un accorto di bellezza, era un elemento in un'estasi di passione. Per la natura del suo gusto, egli ricercava negli amori un gaudio molteplice, il complicato diletto di tutti i sensi, l'alta commozione intellettuale, gli abbandoni del sentimento, gli impeti della brutalità. E poiché egli ricercava con arte, com'è un estetico, traeva naturalmente dal mondo delle cose molta parte della sua ebbrezza. Questo delicato estrione non comprendeva la commedia dell'amore senza gli scenari. Perciò la sua casa era un perfettissimo teatro ed egli era un abilissimo apparecchiatore, ma nell'artificio quasi sempre egli metteva tutto sé, gli spendeva la ricchezza del suo spirito, largamente gli si obbliava così che non di rado rimaneva ingannato dal suo stesso inganno, insidiato dalla sua stessa insidia, ferito dalle sue stesse armi, assimilianza ad un incantatore il quale fosse preso nel cerchio stesso del suo incantesimo. Tutto intorno aveva assunto per lui quella inesprimibile apparenza di vita che acquistano, ad esempio, gli arnesi sacri, le insegne di una religione, gli strumenti di un culto, ogni figura, su cui si accumuli la mediazione umana o da cui l'immaginazione umana appoggi a una qualche ideale altezza. Come una fiala, rende dopo lunghi anni il profumo dell'essenza che ci fu un giorno contenuta, così certi oggetti conservano pur qualche vaga parte dell'amore onde li aveva illuminati e penetrati quel fantastico amante. E a lui veniva da loro una incitazione tanto forte che gli ne era turbato talvolta, come dalla presenza di un potere soprannaturale. Pareva, in vero, che li conoscesse, direi quasi, la virtualità afrodisiaca latente in ciascuno di quegli oggetti e la sentisse in certi momenti sprigionarsi e svolgersi e palpitare intorno a lui. Allora, se gli era nelle braccia dell'amata, dava a se stesso e dal corpo e dall'anima di lei una di quelle supreme feste il cui solo ricordo basta rischiarare una intera vita. ma se gli era solo un'angoscia grave lo stringeva, un rammarico inesprimibile al pensiero che quel grande e raro apparato d'amore si perdeva inutilmente. Inutilmente! Nelle alte coppe fiorentine le rose, anch'esse aspettanti, esalavano tutta la intima loro dolcezza. Sul divano, alla parete, i versi argente in gloria della donna e del vino frammisti così armoniosamente agli indefinibili colori serici del tappeto persiano del XVI secolo scintillavano percossi dal tramonto in un angolo schietto disegnato dalla finestra e rendevano più diafana l'ombra vicina propagavano un bagliore ai cuscini sottostanti. L'ombra ovunque era diafana e ricca quasi direi animata dalla vaga palpitazione luminosa che hanno i santuari oscuri ov'è un tesoro occulto. Il fuoco nel camino crepitava e ciascuna delle sue fiamme era secondo l'immagine di Persi Scelli come una gemma disciolta in una luce sempre mobile. Pareva all'amante che ogni forma che ogni colore che ogni profumo rendesse il più delicato fiore della sua essenza in quell'attimo ed ella non veniva ed ella non veniva. non veniva non veniva